Ogni giorno le chiavi delle nostre auto devono affrontare pericoli e insidie. Grate, tombini, fessure, aperture, sono milioni di bocche spalancate in attesa. L'habitat ideale di questi predatori sono i parcheggi, dove possono attendere per giorni un attimo di distrazione e a quel punto non c'è più nulla da fare. Non hanno paura di nessuno, neppure dell'uomo, e non hanno nemici naturali. O non ne avevano fino ad oggi? Con MyKeySafe puoi archiviare una copia digitale delle chiavi della tua auto e farla duplicare ogni volta che ti serve. Scopri come sul sito letuechiavi.it e scarica l'app Silca Key Innovations.